Un cordiale saluto da Andrea Fagioli e da Riccardo Bigi. Riprendiamo l'appuntamento dopo la pausa pasquale con Toscana Oggi. Questa settimana tanti temi in primo piano che appaiono già sulla prima pagina. Apertura dedicata all'esortazione del Papa post-sinodale in uscita in questi giorni e dedicata alla famiglia. Ma riflessioni che riguardano anche i tragici eventi legati al terrorismo che hanno segnato le ultime settimane. Le riprendiamo con una riflessione affidata a Romanello Cantini che sostanzialmente parla della debolezza dell'Europa di fronte al terrorismo. Ma ci sono episodi di cronaca che riguardano proprio la Toscana, una parte del territorio toscano, ma che sono saliti alla ribalta della cronaca nazionale. Parliamo di quanto è successo all'ospedale di Piombino, in provincia di Livorno, dove si ipotizza che un'infermiera possa aver causato la morte di 13 decenti. Ovviamente siamo nel corso delle indagini e quindi questa è solo un'ipotesi, ma indubbiamente è un'ipotesi che in qualche modo terrorizza. Tanto che si parla in un'altra editoriale in prima pagina questa settimana di orrore dell'ospedale accanto. C'è Anna Giorgi che da Piombino proprio ci racconta di come la città ha vissuto questo fatto di cronaca e come appunto a volte l'orrore possa essere proprio accanto a noi, si possa conoscere anche direttamente bene le persone coinvolte in quanto accaduto. Ma torniamo all'esortazione del Papa, Riccardo. Sì, si intitola Amoris Letizia, la gioia dell'amore. L'amore è quello che si vive all'interno della famiglia. È un testo che raccoglie un lungo percorso, il percorso del primo sinodo indetto da Papa Francesco, il sinodo sulla famiglia, appunto che si è svolto in due tappe. Prima l'Assemblea straordinaria dei Vescovi nel 2014, poi nello scorso ottobre la seconda assemblea del sinodo dei Vescovi nel mezzo. Tra queste due tappe il questionario che fu inviato a tutte le diocesi, a tutte le comunità cristiane in tutto il mondo, proprio perché il Papa voleva che su questo tema, su un tema così delicato come quello della famiglia, fosse raccolto il più materiale possibile per dare alla riflessione dei padri sinodali uno spessore ancora maggiore. Adesso appunto questo documento che raccoglie un po' i frutti di questo lungo percorso in cui il Papa fin dal titolo mette l'accento proprio sul tema dell'amore che si vive all'interno della famiglia. Il tema del terrorismo di cui abbiamo accennato a proposito dell'editoriale in prima pagina questa settimana viene ripreso anche nella pagina delle lettere perché un lettore ci scrive in modo telegrafico ma mettendo insieme una sorta di prima e dopo, ovvero sia il prima l'attentato a Bruxelles che ha avuto un eco enorme sulla stampa di tutto il mondo e poi l'attentato nei giorni successivi, proprio nel giorno di Pasqua in Pakistan che non ha avuto lo stesso eco, anzi un eco decisamente inferiore. Allora merita questo fatto davvero una riflessione perché gli attentati evidentemente, i morti non sempre sono tutti uguali per la nostra informazione. Questo effettivamente è un grave limite. è vero che uno dei criteri che determinano la cosiddetta notiziabilità, ovvero sia ciò che fa o non fa notizia, è quello della prossimità, della vicinanza. Quindi siamo decisamente più interessati a quello che ci accade intorno che non a quello che accade nell'altra parte del mondo. Però è anche vero che questo è un mondo, come si dice, ormai globalizzato, dove ovviamente ormai tutti sanno tutto di tutti e non c'è più questa distanza, non c'è più questa distinzione a un paese all'altro. Allora non si capisce perché certi fatti acquistino una risonanza e certi altri invece passino praticamente sotto silenzio. Fra l'altro in Pakistan sono state coinvolte numerose famiglie cristiane. Un episodio simile era successo anche in occasione delle suore di madre Teresa che sono state di recente uccise, le quattro suore, insieme ad altre 12 persone. Notizia che fra l'altro ha trovato spazio praticamente soltanto sui mezzi di comunicazione cattolici. Insomma questo deve far riflettere perché le vite umane sono le stesse in qualsiasi parte del mondo e quindi gli attentati e i morti devono essere per forza tutti uguali. Meno male che in questo interviene spesso anche Papa Francesco, voce autorevole purtroppo però anche lui non sempre ascoltato da tutti. Lui ricorda spesso, anzi si trasforma in una sorta di vero cronista che tutte le volte quando ne ha l'occasione, soprattutto la domenica in occasione dell'Angelus o in questo periodo del Regina Celi, ricorda spesso questi fatti drammatici che riguardano tutto il mondo e spesso riguardano proprio i cristiani, i nuovi martiri. Il Papa ha detto addirittura che in questo momento forse ci sono più martiri cristiani che non agli inizi del cristianesimo quando si pensava effettivamente che i martiri fossero tanti. Adesso, dice il Papa, sono addirittura di più. Nelle pagine di Toscana Oggi, di questa settimana, anche il comunicato finale dei lavori della conferenza episcopale toscana, l'assemblea che si è svolta all'eremo di Lecceto. Tra le notizie che riguardano le decisioni prese dai vescovi, Toscani, anche l'annuncio della nuova settimana sociale dei cattolici toscani. La prima si svolse a Pistoia nel 2013, la prossima sarà invece dal 28 al 30 ottobre prossimi a Siena, un'iniziativa che raccoglie la tradizione ormai antica delle settimane nazionali, delle settimane sociali dei cattolici. Un'altra notizia, sempre dal comunicato dei vescovi toscani, e anche il pellegrinaggio in Terra Santa, che i vescovi faranno dal 5 al 9 giugno prossimi, un modo per esprimere anche l'avvicinanza delle chiese toscane alla Terra Santa e per rilanciare anche l'abitudine del pellegrinaggio come modo anche per aiutare le comunità cristiane presenti su questo territorio. Ci occupiamo questa settimana anche di un anniversario, ovvero sia dei 25 anni della Fraternità di Romena, una comunità che è nata attorno ad una pieve millenaria nel Casentino, la pieve di Romena, appunto, che da questi anni, in questi cinque illustri, ha attratto veramente tante persone. La comunità a questo punto apre una sorta di riflessione, si propone un anno e mezzo di sosta per coltivare l'anima, quindi in qualche modo cerca di rilanciarsi, di proporsi in maniera nuova dopo questi primi 25 anni che sono stati estremamente significativi per questa comunità e anche per la diocesi di Fiesole che la ospita. E a proposito di movimenti, comunità, in Toscana si è riunito anche la comunità di Emmaus nella sede di Laterina in Valdarno, una delle sedi storiche per la Toscana, un centro che ha riaperto proprio in questi giorni. Il movimento fondato dall'Abbè Pierre ha come sua ragion d'essere la condivisione tra i poveri in Toscana, sono presenti anche le sedi di Prato, di Pistoia e di Firenze. Dalla Terina, quindi dalla provincia di Arezzo, ci spostiamo a Lucca dove sarà ospitato dalla 14 al 17 aprile il Festival Nazionale del Volontariato. Ormai è un appuntamento fisso, un appuntamento in portante per quanto riguarda tutto il cosiddetto terzo settore. Ancora una notizia che riguarda invece le unioni civili, la legge approvata nei giorni scorsi, adesso c'è la proposta di un emendamento che riguarda la possibilità di obiezione di coscienza per i sindaci che non vogliano celebrare le unioni, le nozze, per capirsi, per le coppie omosessuali. Il simbolo di questa protesta è il sindaco di Castiglion Fiorentino, dunque in provincia di Arezzo. Andiamo sulle pagine di Ecclesia, quindi le nostre pagine dedicate all'informazione religiosa. Come sempre parliamo con la rubrica molto seguita, risponde il teologo. Questa volta la domanda può sembrare un po' particolare, ma poi si scopre che in realtà è molto interessante. Un lettore chiede se ci sono norme particolari per lavare la biancheria da altare, quindi la tovaglia che viene usata per la celebrazione della messa, ma anche gli altri oggetti di biancheria che vengono usati. Ebbene, nella risposta affidata a Roberto Gulino, che è docente di liturgia, spiega che effettivamente ci sono delle attenzioni da seguire, perché non ci dimentichiamo che quello che avviene sull'altare è la consacrazione, quindi è la presenza reale del corpo e del sangue di Cristo. Quindi qualsiasi traccia che rimane, anche su questa biancheria, indubbiamente contiene, contiene nella sua interezza, il corpo e il sangue di Cristo. Quindi ci vuole un'attenzione particolare. Quindi Gulino dice che la domanda non è affatto banale come sembra, ma è importante perché ci sono delle attenzioni da osservare scrupolosamente. Quindi rimandiamo a chi vuole la lettura, l'approfondimento di questa risposta nella rubrica Risponde il teologo. Un'altra rubrica, più recente questa, ma un appuntamento che sicuramente valorizza il nostro settimanale, la troviamo sulla prima pagina di inventario, la parte culturale di Toscana Oggi, si intitola Parole, è una rubrica di Sergio Valzania, firma importante del giornalismo radiofonico, ma stavolta invece sulla carta stampata, appunto su Toscana Oggi, si misura con alcune parole. La parola di questa settimana è senso, quell'elemento impalpabile dell'ordine voluto da Dio, dice Valzania, che dice che proprio la ricerca di un senso nelle cose che accadono è quel granello di sabbia che intorno al quale poi si forma la perla che è la fede cristiana. Andiamo al paginone di inventario, quindi siamo nella parte centrale del nostro inserto culturale, questa settimana dedicata ad un diario, un diario di guerra, un diario di campi di detenzione in Germania. Parliamo della lunga prigionia di Salvatore De Vita, che era di origine campana, ma pistoiese d'adozione, che fu catturato dopo l'8 settembre, dopo l'armistizio, e annotò in oltre mille fogli la vita quotidiana nei campi di detenzione in Germania e in Polonia. E invece tra le iniziative culturali segnaliamo anche quella che si svolge a Pistoia in questi giorni, dal 7 al 10 di aprile, leggere la città. Pistoia si interroga sul dialogo. E andiamo a vedere le pagine locali. Toscana Oggi, partiamo con l'Osservatore Toscano, quindi siamo in Diocesi di Firenze, dove si dà conto di un'importante ordinazione sacerdotale, anzi esattamente l'ordinazione sacerdotale di tre preti, che poi in realtà, per la storia che si racconta, le ordinazioni sono di fatto 5, perché insieme ai tre preti ordinati in cattedrale a Firenze, in Santa Maria del Fiore, ce ne sono altri due che sono stati ordinati in India, perché sono originari appunto di quel paese e a questa ordinazione in India hanno partecipato anche alcuni seminaristi di Firenze e anche il vice-rettore del seminario di Firenze. Questi sacerdoti ordinati in India poi torneranno a Firenze per un percorso ancora di preparazione e poi ritorneranno al loro paese dove svolgeranno appunto il servizio sacerdotale. Quindi appuntamento inimportante vissuto a Firenze con le parole del Cardinale Giuseppe Betori siate preti di una chiesa in uscita, ovviamente riferendosi a quello che Papa Francesco ripete di frequente. Sono le giornate delle ordinazioni sacerdotali non sono a Firenze è una notizia che ritroviamo anche su altre edizioni del nostro settimanale come la parola all'edizione della diocesi di Fiesole anche qui in cattedrale sono stati ordinati i sacerdoti Don Francesco e Don Daniele sulle pagine fiesolane dunque il resoconto della celebrazione con le parole del vescovo Mario Meini quindi la missione non è un mestiere ma la passione di una vita. E siamo appena a un passo indietro l'ordinazione sacerdotale parliamo dell'ordinazione diaconale ma che porta poi al sacerdozio questa volta la troviamo sulle pagine della domenica siamo in diocesi di San Mignato dove Marco Billeri è stato ordinato diacono dal vescovo Monsignor Andrea Migliavacca un nuovo diacono appunto per la chiesa di San Mignato. E sono stati ordinati i diaconi anche Maurizio e Paolo qui siamo a Volterra siamo su storie diverse perché parliamo del diaconato permanente dunque Maurizio Marrone e Paolo Basile con le loro famiglie al servizio del vescovo due laici dunque che diventano diaconi due persone sposate che così continueranno a svolgere in maniera più strutturata il loro servizio alla diocesi. Torniamo in diocesi di Firenze per parlare di una casa particolare una casa di accoglienza per anziani, per persone malate la casa Paolo VI si chiama così perché fu donata proprio dal Papa da Papa Montini 50 anni fa in occasione dell'alluvione di Firenze questo fu il suo dono fu il segno della sua visita alla città lo ricordiamo nella notte di Natale città duramente colpita dall'alluvione del novembre 1966 e Paolo VI volle così lasciare questa struttura per anziani che oggi porta appunto il suo nome 50 anni dopo si è celebrata una messa l'ha presieduta l'arcivesco di Firenze il caderno Giuseppe Betori proprio per ricordare le origini di questa grande famiglia gestita con amore dalle suore figlie della carità dalle pagine fiorentine di Toscana Oggi anche l'annuncio di un musical dedicato a Don Milani una novità una bella iniziativa realizzata dai giovani della parrocchia dell'isolotto con musiche testi originali va in scena in questi giorni 9 e 10 aprile poi di nuovo 16 e 17 aprile fa parte del concorso della rassegna diocesana in scena la fede si parla ancora dell'anno santo della misericordia e andiamo in diocesi di Siena con le valdezza Montalcino per leggere della cronaca dell'apertura della porta della carità da parte dell'arcivescovo Monsignor Antonio Buoncristiani e ancora dalle pagine di Siena la festa del papà anche per i detenuti il carcere accoglie le famiglie siamo nel carcere di San Gimignano incontro per separati e divorziati in una chiesa che non lascia soli questo è quello che troviamo sulle pagine di rinnovamento siamo a Grosseto si parla di questa iniziativa fortemente voluta a suo tempo dal vescovo Agostinelli adesso ripresa dal suo successore Monsignore Cetoloni che era stata per un periodo interrotta però sono ripresi questi incontri proprio per favorire il riviacinamento alla chiesa da parte delle persone che purtroppo hanno avuto la sfortuna di vedere il proprio matrimonio interrotto a proposito di giubileo segnaliamo dalle pagine di Prato di Toscana oggi il giubileo per giovani e studenti lunedì 11 aprile alle 21 ma dalle pagine pratesi di Toscana oggi si segnala anche la nuova vita del convento dei Cappuccini la nuova casa del Santa Rita dunque quella che era appunto la sede dei Cappuccini adesso ospita una struttura per sostegno all'autismo alla logopedia un centro di urno inaugurati i nuovi locali ristrutturati e abbiamo avuto occasione più volte di ricordare come in diverse diocesi della Toscana è in corso la visita pastorale particolarmente in intensa quella in diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro infatti dalle pagine della voce troviamo notizia cronaca della visita pastorale che è ripresa nel cortonese in questo caso specifico a Terontola dove c'è stato l'incontro tra la comunità locale e l'arcivescovo Riccardo Fontana questo percorso appunto che è ripreso nelle parrocchie della zona di Cortona e chiudiamo ancora con le pagine della diocesi di Fiesole dove si annuncia il pellegrinaggio diocesano a Roma il pellegrinaggio in occasione del giubileo della misericordia sarà sabato 30 aprile diverse diocesi toscane si stanno muovendo un po' in questo periodo proprio per partecipare al giubileo anche con il passaggio della porta santa a Roma ricordiamo che per la diocesi di Firenze l'appuntamento sarà invece il 18 di giugno e l'appuntamento anche per i settimanali cattolici della federazione italiana appunto i settimanali cattolici la FIS questo sabato per il proprio giubileo insieme anche a tanti altri in piazza San Pietro con il Papa e con questo è davvero tutto come sempre un grazie per l'attenzione e appuntamento alla prossima settimana a